Ma guarda, anche oggi qua in questo lurida cucina, oggi a chi tocca, vediamo, ah, Garagozzo, cazzo, scherzo, si chef, Garagozzo, si chef, eri già qui Garagozzo, sono qui chef, hai fatto qualcosa oggi? Si chef, oggi le presento, che schifezza mi fai assaggiare Garagozzo, le presento un piatto, mi presenti, chi mi presenti? Un piatto nuovo chef, un piatto nuovo, il genio della cucina, si, fresco e leggero da proporre, quindi io direi in un light lunch, che cosa Garagozzo, dov'è che lo vuoi proporre? In un light lunch, una pre-cena party, un free night dinner, un fast pub drink, diciamo. Vuoi fare un genocidio? Ti voglio stupire, chef. Ci vuoi stupire? Si chef. Dopo le cagate della volta scorsa, tu ci vuoi stupire? Si chef. Infatti le volevo presentare un piatto sicuramente da amare, chef. Da amare. Si, per realizzare questo piatto, chef, bastano pochi ingredienti, cioè un cinghiale in umido avanzato dal giorno prima. Un cinghiale in umido avanzato del giorno prima, già mi interessa questa grandissima cagata. Dai, dai, vai avanti. Per contrasto, chef, un po' di nutella riscaldata. Ah, quindi tu mi accoppi il cinghiale con l'antena. Si, chef, è innovativo, chef. Cazzo, portatemi un bagnotto, per favore. Infatti, c'è questo piatto che l'ho preparato in soli 2 minuti e 56 secondi. Piatto di lunga preparazione, a quanto sembra. Io volevo spiegarlo, chef, perché basta far rosolare il cinghiale del giorno prima e poi immergere nel soffitto due cucchiai di nutella e farlo amalgamare in modo da creare l'onda del cinghiale. Caracozzo, ma che cagata stai dicendo? Scusi, chef. Che cosa mi hai portato qui davanti? Eh? Una manzotin con un po' di cacca di sopra? E me la bestia, Caracozzo. Mi mandi in bestia. Come faccio ad assaggiare questo piatto? Vuoi che muoio? No, per ricattare, chef. Vuoi che muoio? No, no, no. Assolutamente, chef. Assaggiamo. Caracozzo! Chef, mi scusi. Ma che cazzo mi hai portato, Caracozzo? Mi scusi, chef. È impossibile. sei un mentecatto. Non sei cosa di cucinare. Devi pulire gli scantinati. Quante volte te l'ho detto. Stai lontano dai fornelli e non ti presentare mai più. Piatto improponibile. Per me è no.